E io voglio andare nelle prigioni del palazzo dove hanno girato fino a mezzanotte C'è un incidente sulla strada che ci hanno mandato su un'altra via ma speriamo di riuscire a passare Ecco questa è una costruzione proprio ottomana Lasciamo la via balcanica per prendere una nuova strada che ci porterà fino a Kasbeghi in Giorgia ai confini con la Russia Benvenuti nel primo paese dell'Asia occidentale Attraversiamo gli alti piani del Mar Nero Ci facciamo sorprendere dai paesaggi incredibili fatti di montagne colorate, di fiordi, di laghi, città rupestri, persone, storia e degli inconfondibili sapori Benvenuti in Turchia Ma come è cambiato il paesaggio in poco? Sì E adesso andremo a vedere due o tre cosette Se li troviamo Un sito storico Hanonu era? Hanonu? Hanonu sì Allora vendono l'aglio dappertutto Adesso non so se si vede Anche questo qua Con la macchina Questa macchina E' pieno d'aglio Come lungo la strada Ma pieno, pieno dappertutto Va caldo Finora siamo scappati sempre a dormire al fresco Stasera non lo so dove troveremo il posticino Basta c'è lì Vediamo, vediamo, vediamo dopo, vediamo Adesso andiamo a vedere Kayamezzari Speriamo non si debba camminare a volte perché va caldo Ma io se c'è un'ombra e mi fermo Mi dormo mezz'oretta prima di fare qualsiasi Va bene Eccolo lassù Paflagonia Siamo nell'antica terra della Paflagonia E quello lassù E' una tomba del re Del settimo secolo a.C. E' una regione storica dell'Anatolia Ma vi dico che arrivarci Bisogna essere un po' una capretta Ma non capretta qualsiasi Capretta della montagna Capretta della montagna Veramente, peccato Adesso io provo a avvicinarlo Più possibile Guarda Era bello da vedere ma C'è una pista Terribile Niente Proseguiamo Abbiamo trovato anche delle Pietre basaltiche Vediamo Senti Antica Paflagonia E' piena di Galine Che hai detto? Tra poco ci sparano Tra poco ci sparano Si diciamo che questa zona Non è proprio Molto turistica E quando vedono uno Ti guardano E dicono Che vuole questo qua? Cosa vogliono questi? Questo era inizio del percorso Però dopo c'è tutta quella salita lì Sono 35 gradi E noi Giriamo A sinistra Verso Sinop La città più nord della Turchia Situata quasi a metà della costa turca Sul Mar Nero In questa città ricca e vivace Nacque il filosofo Diogene Detto il Cinico La famosa frase Cerco l'uomo Il filosofo pronunciava Portando attorno una lucerna In pieno giorno Alla ricerca di un uomo Che è libero da convenzioni E da esteriorità Siamo a Sinopè Sono seguita adesso Oh ciao Dopo dopo Sì perché questa città È conosciuta per la grande flotta Di pescarecci Oltre lino Mais È stata fondata Nel 630 Ma non si riesce a fare neanche la ripresa È che si mangia Vedi? Qua si mangia Mamma mia Comunque una bella impressione Mi hanno detto che è chiuso Però guarda Sinop Taricici Saevi Ecco la prigione Dove hanno girato anche il film Fuga di mezzanotte Emozionante Non lo sai qua Finché Che drammaticità era Senza questo rumore Dei uccelli Loro Nella galera Utilizzavano i pavoni Come guardia Era pieno di pavoni Qua Dai Ok E se il prigioniere scappava I pavoni cominciavano a grisare E lo stesso rumore Molto drammatico Però finisce bene E il film è stato girato nel 1978 Io l'ho visto nell'82 E così Non una volta Due o tre volte L'ho visto E sono emozionato veramente Essere qua Comunque una vera prigione Dove tenevano i prigionieri Non è fatta solo per film Ex prigione Ovvio Ma queste sono tutte celle Il film racconta una storia vera Di un giovane americano Che viene arrestato ad Istanbul Per il possesso di hashish Arrestato e condannato A trent'anni di duro carcere Una parte del film È girata proprio qui Il castello d'un giovane americano 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 vicino a casa mia amam era così quando ero piccolo vicino a casa mia amam sarebbe il bagno quello conosciuto bagno turco in realtà gli arabi dicono bagno arabo era fatto così infatti c'è scritto storica al turcish bat poi magari è buio che c'è dentro ma funziona ma solo maschi femmine come funziona ricordi con i giovani usiamo i chiusi che qui utilizziamo per costumare però potvate il fatto se posso fare un foto se vuoi ok grazie ok grazie questo building è quasi 1.000 anni fa 1.000 anni fa quasi 1.000? sì 1.000? sì il salto wow e ora è sicuramente prima di ottomani mille anni studi 中 中 effetti 細 高 很 Grazie a tutti. 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 Bye bye Sinope. Grazie a tutti. Questo in teoria va verso un posto sulla spiaggia. Qui? Sì, sì. Siamo in un canyon. Come si chiama? Shanshikaya? Shanshikaya Canyon. Ma ci sta proprio una macchina su. Andiamo? Vado? Vai. 120 lire attraversiamo il canyon. Un euro circa quasi. Un euro circa quasi. Vabbè, 3-4 euro, via. No, 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 no.